Il 21 marzo scorso, nel corso di un tavolo ministeriale, la tale SSPA, dopo aver precedentemente annunciato dei tagli ingenti ai posti di lavoro della sede di Chieti, annuncia la volontà di dismettere e trasferire le attività inerenti alla difesa presso altri stabilimenti. Per la precisione, due, quello di Sesto Fiorentino e quello di Gorgonzola. Il giorno dopo, i lavoratori della sede di Chieti iniziano uno sciopera d'oltranza che oggi raggiunge il settimo giorno e spiegano il dissenso per una proposta da parte della società che sembra avere più di una falla. È stato soltanto un maldestro tentativo di confondere l'idea a chi sta scioperando e a chi sta sostenendo questa battaglia. Non c'è nessuna chance perché l'azienda ha ufficializzato l'idea di smantellare questo sito produttivo e i progetti che sono stati presentati e che dovrebbero essere visti come la possibilità di mantenere in vita un rapporto di lavoro non sono assolutamente credibili. Tenere in piedi dei posti di lavoro, pochissimi tra l'altro, parliamo di 26 posti di lavoro, qui a Chieti significa preparare il trasferimento successivo presso la Malesia. Ad intervenire sulla questione era stato da subito anche il vicepresidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, richiedendo un tavolo con le parti. La volontà era quella di dare più garanzie alla società ed evitare con tutte le forze la chiusura della sede. Ma ad oggi sembra impossibile trovare un accordo. I sindacati chiedono la possibilità di pensare a un nuovo piano industriale. La nostra proposta è chiarissima. Annullare il piano industriale, quel piccolo progettino industriale che loro hanno realizzato, cioè di chiudere questo sito, sedersi a discutere con noi per capire come questo sito si rilancia. Quindi un nuovo piano industriale di rilancio e non di chiusura, con tanto di dettagli, in primis quanti soldi mettere per il rilancio vero di questa azienda. Grazie a tutti.